Buongiorno a tutti, sono Banzola Nicoletta di Centro Dermatologico. Parliamo di laser epilazione. Il laser epilazione è una tecnologia che ha come target il pelo, ma il pelo in fase di attiva crescita e non lo sono tutti nello stesso momento in quanto il ciclo del pelo è asincrono, per cui ci vogliono più sedute per colpirli tutti. Minimo in genere 7-8, massimo 10-12, dipende chiaramente dalle caratteristiche del soggetto, cioè il tipo di pelo, il tipo di pelle, se ci sono delle alterazioni ormonali che sostengono la crescita di peli oppure altre condizioni patologiche. Nella nostra esperienza i pazienti sono molto contenti della seduta, la seduta è pressoché in dolore, è molto veloce, in genere tutto il corpo ci si mette circa 45 minuti. Ci vogliono chiaramente più sedute, le prime 4 è importante farle ravvicinate nel tempo, cioè circa una volta ogni mese, mese e mezzo e poi richiamano i pazienti quando crescono i peli. In genere possono passare anche dai 4 ai 6 mesi nelle sedute dopo le 4 sedute canoniche. I pazienti comunque già dalla prima seduta sono molto contenti perché i peli che ricrescono sono molto meno, sono molto più sottili, molto più chiari e crescono molto più lentamente. I manipoli che abbiamo, i laser che abbiamo sono il diodo e l'alessandrite che sono ad oggi il gold standard per l'epilazione. Abbiamo anche il neodimio YAG per i fototipi più scuri per cui l'epilazione diventa accessibile anche alle persone di colore. Chiaramente prima si fa un colloquio per capire la tipologia di paziente, di pelo e qual è il laser migliore e i laser sono questi. Questo è il manipolo per i peli più piccolini e per le zone più piccole. Nelle zone più grandi abbiamo questo manipolo che prima fa una piccola aspirazione e inganna i recettori del dolore nel sentire l'aspirazione e meno il dolore. Abbiamo anche il laser alessandrite e il laser neodimio YAG con la nuova tecnologia Moveo che è una tecnologia nuova che si basa sul raffreddamento nella zona che ha contatto con la pelle così da fare un po' di effetto anestetico durante la seduta di epilazione. Questo per avere il maggior risultato col minor dolore possibile e questo è il manipolo. Abbiamo inoltre anche il manipolo luce pulsata però è un manipolo che tendiamo a non usare perché è non specifico per il pelo e non doloroso. In caso di tatuaggi sul tatuaggio non si può passare laser epilazione in quanto va ad interferire con il pigmento del tatuaggio. Non va a distruggere il tatuaggio in quanto il suo bersaglio rimane comunque sempre il bulbo del pelo quindi il cromoforo melanina che è dentro al bulbo del pelo. non interferisce. Abbiamo i laser diciamo al numero 1 ad oggi per l'epilazione che non interferiscono con la melanina della bronzatura per cui in teoria non si può fare su pelle abbronzata però siamo abbastanza comunque sicuri. Con il tatuaggio in quelle zone non si può fare meglio di noi.